La nostra forza nel momento in cui abbiamo rinnovato tutta la gamma sicuramente è essere presenti con i prodotti in tutti i segmenti specifici e di maggior interesse per le flotte, dal segmento delle compatte fino al segmento ovviamente del luxury. Avere allo stesso tempo vetture che per equipaggiamento, motorizzazioni, allestimenti siano assolutamente competitive, ma soprattutto essendo Mercedes-Benz portatori nel nostro DNA di sicurezza, comfort e innovazione. Per tutte le nostre vetture abbiamo predisposto ovviamente degli allestimenti business specifici con contenuti sicuramente importanti per il nostro cliente di riferimento, ma anche servizi. Servizi che noi riteniamo devono essere fatti su misura per il cliente, sia per il cliente driver che per il cliente azienda, che anche per il fleet manager. Quindi ci stiamo muovendo su tutte e tre le dimensioni. Abbiamo creato appositamente un marchio, Business Solution, all'interno del quale raccogliamo tutta questa tipologia di offerte tailor-made che proponiamo attraverso la nostra rete di vendita e attraverso la nostra forza vendita diretta costituita da chi è accanto a managers che si muovono su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda l'offerta di prodotto, abbiamo tutti questi allestimenti che sono disponibili a partire dalla classe A fino alla classe S. Nello specifico il nostro cuore di gamma sono la classe C e tutto il mondo del SUV che a partire dalla seconda parte del 2015 stanno sostenendo fortemente i nostri volumi. Gli allestimenti business che abbiamo costruito su queste gambe stanno riscuotendo grande successo in quanto sono realmente prodotti sui quali il nostro cliente di riferimento sta trovando il giusto compromesso tra il valore della vettura, il servizio offerto e ovviamente il comfort e la qualità della guida. Se il 2015 si era concluso con il SUV Attack, il 2016 proporrà la grandissima novità del rinnovamento completo della classe E, segmento per noi fondamentale, il luxury, sul quale stiamo puntando per tornare ai vertici non solo nel mondo delle flotte ma del mondo German Premium in generale. La classe E è stata definita la vettura sicuramente più intelligente al mondo. La vettura che per quanto riguarda Mercedes-Benz è un concentrato di tecnologia, innovazione, di nuovi sistemi di assistenza alla guida nati appositamente per migliorare quello che è il supporto al nostro driver in modo tale che la vettura sia in grado di interagire direttamente con la strada, con quello che ha al suo contorno e aiutare effettivamente il driver nei momenti in cui questo possa essere in qualche modo distratto. Non si sostituisce ovviamente al nostro pilota ma sicuramente è un angelo custode che gli siede al fianco e guarda a 360 gradi quello che avviene attorno alla vettura. Se la classe E berlina l'abbiamo lanciata a marzo, la novità di questi giorni è il lancio della classe E station wagon che viene introdotta sul mercato italiano con nuovi propulsori, nuovi equipaggiamenti, sempre con l'attenzione al cliente business. Si concluderà nel mese prossimo con l'ultimo dei componenti del SUV attack, il GLC Coupé, altro pezzo da 90 della nostra collezione dei SUV.